Sono dieci giorni con oggi che non si registrano casi sul nostro territorio, tocchiamo ferro, speriamo di continuare così, mi sia consentito di rivolgere comunque un ringraziamento sentito ai miei amatissimi compaesani che si stanno comportando veramente con diligenza e onore, bravi, continuiamo così, non abbassiamo la guardia e massima cautela perché il covid è molto ignorante. Per il decimo giorno consecutivo il comune di Sambuca Pistoese è l'unico con zero casi di contagio da coronavirus in tutta la provincia di Pistoia. Situato nella valle dell'Alimentra il comune sparso conta attualmente circa 1530 abitanti e data la vastità della zona e la scarsa popolazione riesce a mantenere distanziamento anche grazie al rispetto delle regole da parte di tutti gli abitanti. Il nostro è un territorio molto vasto e quindi c'è anche il distanziamento sociale se si considera che abbiamo 20 persone per chilometro quadrato. Siamo pochi e poi ci comportiamo anche comunque con disciplina ed onore, tocchiamo ferro. Il sindaco però pone l'attenzione su altri due problemi. Noi a Sambuca abbiamo 140 ultraottantenni, con i vaccini stiamo andando troppo piano, bisogna accelerare, bisogna fare più in fretta perché stiamo andando troppo lentamente. Altra considerazione, un appello alle istituzioni sovraordinate perché la provincia di Pistoia è dal 26 febbraio che è in zona rossa, quindi le attività economiche sono fortemente stressate. Abbiamo bisogno di ristori adeguati alla eccezionalità dei sacrifici che queste attività stanno facendo. La nostra è una realtà dove ci sono tanti circoli. I circoli a Sambuca sono un presidio vitale per il nostro territorio. Da troppo tempo sono chiusi, vanno riaperti.